La prestazione personale non era facile. Quello che è successo è per te andare da titolare e tornare in campo e fare prestazione. Sì, era complicato dopo sette partite che non giocavo da titolare, però mi sono sempre allenato bene, quindi volevo giocare. Penso comunque di aver fatto bene con tutta la squadra e sono contento per questo. Secondo lei andava affrontata così questa partita contro il Catania? Il Catania è una buona squadra, la dovevamo affrontare così, attaccarli bene e non farli ripartire. Poi ci sta comunque soffrire un po', però l'importante era costruire sempre la manovra, avere il pallino del gioco noi. Quindi l'abbiamo fatto e siamo veramente contenti di aver portato questi tre punti. Grazie. 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 Grazie.